sono tornati più forti più zozzi e più bo no, 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 non proprio ma perché ce l'avete con Chirone comunque io non l'ho capito perché sotto sotto sappiamo tutti che ci piacciono i cavalli volete fare un giretto su Chirone qualcuno disegni Chirone stile My Little Pony fatelo io vi caccio dallo stream vai this bitch stanno sclerando il brutto c'è un problema di gestione della rabbia a me sta caricato io ero tornato alla schermata del menù e dunque a quel punto inizia uno dei incontri più strani che io abbia mai affrontato non so dire adesso che cosa c'era di strano ma qualche cosa è fuori posto Alberto Angela che leggere che ripi posto l'impostazione di Alberto Angela paro preciso ma siamo in tre ma che cazzo no, no non avessi e che cosa perché adesso è rallentatore e mi ha appena buttato mi ha buttato la schermata oh mio dio ragazzi e la squadra avversaria cos'era? una squadra fantasma perché adesso adesso controlliamo i nomi della squadra avversaria e come minimo sono tutte persone che sono morte da cinque anni adesso andrà tutto normale proprio tutti tranquillissimi poi tipo stasera verso le due e mezza improvvisamente mi si riaccenderà il pc dentro quella partita hai una voce serissima Giangelo non me la ricordavo questa tua voce così seria allora come porco schifo sia giusto scusa me la fai me la fai me la dici la frase sulle olive sacla solo il miglior aceto balsamico ti picchi no, no non si fanno queste cose vai manine toccatelo tutto cosa? è la descrizione più brutta dell'abilità che io abbia mai hai sentito in vita come è bravo Neko quando ha un cavallo lo corregge di mora quando è un cavallo quando giochi Chirone diventi Chirone e poi arriva come come tipo fulmine a ciel sereno Edval se non lo senti galoppare sono cazzi qua l'unico che mi conosce nella mia vera forma è sì meglio che mi conosce la mia vera forma that's not even my final four oh raga raga calmate Cassandra ma tu non dovevi fare le anticipazioni ah già quello che dovrebbe fare le anticipazioni chi ha dei prossimi sviluppi alla protagonista come può essere? sarà strambo sì che è strambo però se ti sei così è strambo